Inizia in questo momento il match, palla per Raikon, può andare a cross morbido, secondo palo, Ibra! Alto! Prima palla con i ragazzi! Al terzo minuto la girata in volé di Ibra, palla alta ma subito vicini con questa bella giocata e colpisce con troppa irruenza quindi nulla da fare. Ancora Kakà che ha spazio, attenzione pericolo, Kakà punta Samuel, entra in aria, lato corto, guadagna il fondo, il suo tiro cross è deviato in calcio d'angolo. Dei diffidati, mentre l'Inter ricordiamo che ha in diffida, palla per Izzaghi al limite, c'è un falo di Cordoba e allora c'è il calcio in punizione e a punizione per Cordoba. E' pronta a battere Pirlo, traiettoria, giro, gol! Gran gol! Detto dopo un gioco mettere nell'angolo ma ha calciato benissimo, qua poco ci può fare onestamente Giulio Cesar, guardiamola, la calcia molto bene, forte, a giro. Vantaggio del Milan, forza ragazzi! Si fa vedere Cruz, vediamo se lo serve, buono il pallone, palla dentro, Ulio può entrare in aria, il suo cross, Dida, Mischi, Eimenez, il tiro! E' traversa, 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 palla viva, ancora Cruz, può andare a contro cross, palla dentro, Dida! Tutto, occasionissima, la traversa di Mischi, la posizione da Pirlo, fa ripartire il contropiede, Cacca contro Zanetti, attenzione, Cacca contro Zanetti, accelera il brasiliano, entra in aria, pericolo, attenzione, capitano! Il capitano! Maicon, se ne va, attenzione, Maicon lo chiudono, Ibra, verso giù, Maicon in vantaggio, messo giù anche lui, punizione per noi, dal limite. Parte Kivu, palla giro, Dida! Eh, ha colpito bene ma... Cacca contro Samuel, attenzione Cacca, pericolo, c'è Inzaghi che taglia, Cacca va in tunnel, entra in aria, finta contro finta, arriva Kucciu, chiuso, Sedorf, ancora Cacca, gli vanno indosso in tre, ancora Cacca, si butta a terra. Qua la dobbiamo unire per simulazione, qua la dobbiamo unire per simulazione. Ancora Kruz, sempre Kruz, arriva sempre Kruz, grande giocata per il Cucciu, che può andare al cross, c'è Ibra, servito in lungo linea, protegge bene questo pallone, limite dell'aria, lato corto, cambiasso, può andare a metterla, palla per Kruz, attenzione, Kruz entra in aria, il tiro! E' gol, 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 e' gol Calma ragazzi, calma ragazzi, calma ragazzi, calma ragazzi Grande azione di Julio, grande azione, guardatelo lì Sembra Ingemar Stemmach fra i paletti 1-1, e adesso entra Matrix Fuori Samuel, il gol al minuto 36, giustizia E allora dentro Matrix Possiamo avanzare bene sulla sinistra con il Conte Attenzione al movimento, parte un dribbling su Oddo Si accentra, cambia tutto sulla destra per il capitano Tenta il tiro, tenta il tiro, il tiro Ehi, fuori Ha cercato l'esterno destro Ha tirato di destro, un po' meno d'esterno Quindi il tiro di collo è andato dritto Non ha preso la virgola che serve in questi casi Peccato, palla per Jimmy, il maghetto, attenzione Mette giù, fallo da dietro di Ambrosini Fallo da dietro di Ambrosini, ha morito Ibra ha detto, tiro io Morganti in piazza, la maniera 9-15 Primo piano del mancio, forza ragazzi Si definono tutti, parte il genio Il suo destro, il tiro, Murato Ancora Ibra, sinistro, tiro, rimpallato Corner, non c'è tempo Finisce il primo tempo, 1-1 Gran bel derby La punizione di Pirlo, il gran gol del segno È sempre Cruz, con un Inter che ha fatto gara Ha creato qualcosina in più Ce ne andiamo, la trattenuta di Sendorf Resiste Jimmy, attenzione il maghetto va al numero Palla larga per Cruz, se ne può andare Profonda troppo per Ibra Ce la fa tenerla viva, Cornerone Cornerone Capitano Valdini, che mette giù Capitano lo va a contrastare, parte la traiettoria C'è una deviazione, c'è la girata di testa di Gilardino Palla larga per Cruz, può andare al cross Attenzione, guadaglia al fondo Palla dentro, la testa di Nesta Recupera Cambiasso, il suo tiro In volé, di destro e a lato Recupera Serginio, può andare al cross della sinistra Ma il corner su di lui, cerca di passare Doppio passo, guadaglia al fondo Serginio Cross sul palo lontano Dove Maxwell anticipa Emerson nuovamente in calcio d'angolo Il pallone per Pirlo Lo va a contrastare il capitano Materazzi si lascia cadere Si lascia cadere Vabbè, prende rincorsa Pirlo Attenzione, palla dentro Pericolo Corner, mamma mia Però l'ambito è fermato, c'era un fallo Attenzione Jimmy, vada solo Attenzione, non chiudono i due Allarga il pallone per Cruz Palla un po' larga, lo va a contrastare oddio Si ferma Julio, difende il cross Centro area, Valdini mette fuori Cambiasso è più lesto, recupera Il suo sinistro dirà La deviazione di un rosso-nero ma la rasoiata che spiazza Didar, dico forse la deviazione perché Didar rimane completamente spiazzato dal tiro di Cambiasso, adesso andiamo a rivederlo, Inter che va in vantaggio con il gol del Cucciu al diciottesimo ed eccolo qua lo stendardo del Cucciu ed eccolo qua, rivediamo l'attenzione, il cross, Valdini di testa, il più lesto è Cambiasso che arriva, tira, forse sì c'è una deviazione, dobbiamo vederlo da dietro per capire bene se c'è e chi devia, il pallone forse è Calazze, vediamo, no, no no no, Paperona allora qua, si fa spiazzare con un tiro di esterno sinistro, gran gol, Zanetti ruba palla, fallo, possiamo vedere Cacca, vediamo se la palla arriva al pallone d'oro, palla dentro invece per Emerson, spalla alla porta, mette fuori ancora per Sergino, contro cross, Gilardino attenzione una mischia con il movimento di Ambrosini che è Giulio Sensa che recupera il pallone, fa il partire del contropiede Kivu, facciamo andare, c'è Emenez solo dalla parte opposta, palla oltre la linea per Cruz, attaccato da Calazze, viene buttato giù, l'ambito dice tutto normale, il rilancio di Giulio Cesar, palla in zona Ibra, Valdini di testa, viene anticipato, Ibra controlla, arriva al limite, cerca di andarsene, attenzione, in suo destro il tiro, la palla va a lambire il palo, Valdini, palla per Pirlo, il velo per la corone di Oddo che può andare al cross, Palla dentro, dietro la linea di difessore, il colpo di testa è di Cordova, Maicon è in vantaggio, di testa mette fuori, Kakà arriva, carica il sinistro, la parata, il calcio d'angolo di Giulio Cesar, tutta l'inter dentro, palla dentro, attenzione, colpo di testa e mischia il tiro, salvataggio di Cambiasso, l'ambito fa correre, il pallone controllato dal Genio, attenzione Ibra, colpo di tacco per Suazzo, si deve girare, Suazzo prova ad andare da solo, salta nuovo, un secondo, arriva al limite, Pelé, attenzione, in suo destro, la palla fuori, con Maicon che dice, sono qua da solo, Valdini può avanzare da quel lato con lo scambio con Sergino, il cui cross a centro aria, attenzione, mamma mia, liscia nel palo dei nostri, va a vuoto Ambrosini, recupera Oddo, versato in destra, contro cross, Pelé, Suazzo mette giù, parte il dribbling, se ne va, se ne va, se ne va la freccia, 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 Marga, Ibra, entra in aria, il tiro alto, 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 mette giù Suazzo, guarda il cronometro, guarda Borganti, fallo ai danni di Suazzo, calcio di punizione per noi, calcio di punizione per noi, è finita, è finita, Inter batte Milan, 2-1, battuti i campioni del mondo, e allora, quest'Inter invece che è campione, a prescindere, chiude la pratica, il derby vinto anche quest'anno, Dov'è la novità direte voi? Buon Natale a tutti, Cruz e Cambiasso, una grande Inter!